Nel proseguire quella che è una collezione di capi colorati che vi ho già mostrato, questo merita sicuramente un pensiero. Questo viola chiarissimo, voglio chiamarlo un glicine, non so, è veramente un viola particolare, non proprio un fucsia rosato, è veramente un colore che è difficile da esprimere, che secondo me però incredibilmente su un abito rende bene. E' chiaro che è opportuno che chi lo indossa sia un tipo sicuro di sé, sappia indossare i prodotti, sappia non abbinarli. E la sfida qui era quella di riuscire a fare in modo di spegnere un pochettino il cavo. Abbiamo quindi optato per una chemise celeste e una cravatta con i toni di celeste che non fornisse un ulteriore elemento di contrasto, ma anzi aiutasse ad addolcire quello che è l'abbinamento colori. La fodera interna è una fodera personalizzata su richiesta del cliente con questo look giardino di limoni, che secondo me è chiaramente in tema con il colore del capo, sicuramente una tematica estiva, sicuramente una tematica piacevole, divertente, rilassante. E io credo che questo è il tipico prodotto che chi lo ha e lo sa indossare lo userà con grande divertimento e piacere. Spero che l'abito e che il video vi siano piaciuti. Ci vediamo ad alzato.